Bentornati ragazzi sul canale di Geek Next Gen, siamo tornati oggi su Black Ops 3, siamo in Deathmatch a squadra e Nucleo Ho cambiato il personaggio, da Tempest sono passato a Ruin e la mappa è Hunted Ragazzi sto facendo il prestigio dell'arma, sto al primo prestigio, quindi vedete non ho tolto il vino e tutto Ecco qua infatti, vedete una precisione, già non è un'arma molto precisa questa qui Però ora è ancora di meno, perché non ho neanche il sottocanna per stabilizzare il vino, attenzione, altra kill Eh sono stato killato, non avevo visto dalla minimappa ma non sono riuscito a killarlo io Comunque ragazzi, piano piano, ovviamente sto portando a fare questo tipo di partite Deathmatch a squadra Non mi sto portando a modalità particolari perché sto cercando di riprendere la mano e fare un po' di punti in più prima di andare avanti Se ne qua, perché stanno sparando come se non ci faccio domani Sono morto però prima di morire l'ho ucciso, quindi vaffanculo Quello qua, dito bastardo Eh no, è dietro, eh No, però l'ho chiamato quello lì, ragazzi erano in treni, uccisi due Non mi conviene troppo correre perché se no Quindi vanno, quindi, trappolano Quello là il bastardo muoriva No, ma con il alti, ma andiamo a distruggire un mio compagno Eccolo qua, killato Eccoti qua, preso No, mi ha fregato, questa volta Tutti qua, panchino, muori Eccolo qua, doveva si pentitico, era finito nell'altra ragazza Ci stavo po' mi rinfrescando, lo ho finito di rinfrescare anche io, visto che sono da voglia di farsi una doccia ciao lì uno scanto gravitazionale ecco qui è questo stato chillato però bellissimo cusciare con stato gravitazionale ma come ha fatto a non chillarlo ma l'ho sparato tre ore prima dai no ma porca puttana porca porca puttana sì ottima abbiamo vinto ragazzi prima partita portata a casa vittoria questa è la morte finale ragazzi guardate c'ero c'ero io lì che stavo sparando se visto il mio proiettile ecco vedete quello è il mio proiettile che è passato e poi la dietro il mio compagno ha finito e così abbiamo vinto la partita io ho fatto 11 10 insomma non è male ragazzi per se riprendono avanti qui direte inizio a fare più morti che cioè scusate più ci sono i più morti comunque ci vediamo fra poco ragazzi con la seconda partita perché ragazzi eccoci tornati nella seconda partita siamo sempre nel detto ma c'è squadra nucleo solta la mappa però è combi e io sto qua sempre con lui fuori 1 però nel frattempo cerco di fare anche qua più morti che c'è più decisioni che morti ecco di qua filato 1 e non sono riuscito a tirare il secondo ragazzi non sento l'avesse sparato come se non ci fosse un domani ma non ci sono comunque riuscito purtroppo incredibile come non l'abbia ucciso ragazzi è incredibile ragazzi li colpisco ma non di chilo qua sono in due ottimo lavoro di squadra ragazzi abbiamo tirato tutti i nemici nei paraggi ecco qua niente da fare ragazzi cioè i colpi arrivano in ritardo non so se avete notato sparo ma arrivano in ritardo i colpi perché non li colpiscono neanche tu muori non so che cosa voleva fare questo però comunque tu muori tu muori e che mi chiamate al cazzo e buoni ragazzi guardate non l'ha ucciso non l'ha ucciso nonostante lo spazio caricatore non è morto e quindi non arrivano 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 ragazzi l'occhio è assurdo non chiamare no vabbè ma non è possibile assist ma non mi chiamano mi chiamano ragazzi non mi chiamano non mi chiamano proprio non mi chiamano è assurdo sempre assist sempre assist perché non chiamano che si sparo per primo oh finalmente sonoci da fare una kill incredibile altra kill incredibile ragazzi non ci credo muori va qua muori qua c'è una macchinetta nemica ragazzi qua muori anche tu ma guardate quello guardate quello si è guarda paga l'affitto lì è perché prende il posto e tubo cioè assurdo ragazzi si mettono lì e rimangono lì guardate ragazzi in due cioè è affitto camper lì praticamente muori va e infatti ragazzi la seconda partita è persa ma è normale tutti insieme appassionatamente insomma ragazzi non so se siete notato ma spesso colpivo ma non chiamava allora ragazzi questo mio risultato 13 15 sono arrivato secondo nella mia squadra con 7 assist ragazzi piano piano sto migliorando insomma rispetto all'inizio ok ragazzi allora se questo episodio di club duty vi è piaciuto come sempre lasciate dai commentate condividete se avete qualche consiglio suggerimento su armi dotazioni che potrei prendere fatemelo sapere scrivetelo qui sotto nei commenti ricordatevi che io sono di grado 24 quindi non ho tutti i personaggi ancora sbloccati e quindi ragazzi mi raccomando confido in voi se volete aiutarmi a migliorare scrivetemelo qui sotto ok ci vediamo al prossimo video qui da un giorno dell'83 tutto bella Grazie a tutti.